Ehi la ciurma! Niente, io mi sono fatto prendere qua da ShopEkeep e quindi eccoci di nuovo qui su ShopEkeep Terzo episodio che sto registrando praticamente di seguito, se non di seguito quasi E... pronti per il settimo giorno, nell'ultimo episodio siamo andati a espandere un pochettino questa zona Comprando quel bancone e investendo in due nuovi oggetti che non avevamo mai avuto Cioè in realtà i guanti sì, ma perché li avevamo trovati nella spazzatura E... è stato più che altro un caso Ah, c'è ancora... cos'è? E ovviamente una Wild Growth Potion che non riusciamo a vendere No, aspetta, no, 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 questa vendila... Al 100... perché non me la metteva al 120? Mi pare che qua avesse già impostato... eh, sì Boh... non mi ricordo se avevamo controllato però lo stato... sì, forse un po' sì Ma non tutti... com'è qua? 94? Non l'ho appena neanche usato Dai, belli! È già quasi un minuto caperto, accorrete numerosissimi Dai, questi due entrono, adesso fanno una bella deviata a sinistra No Dai! Ma siete dei... dei roppiscatole di brutto proprio, eh? Che... che... Eh, torna indietro... è... 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 potrei anche farmare la gente per strada e vendere la roba Ma credo che guadagni di meno, mi pare di aver capito Cioè ti danno qualcosa ma non ti danno... niente di che Ehm... tutti insieme adesso... cosa... allora, quello ha comprato... La pietra... quello se n'è andato perché voleva qualcosa che... Quella... la pietra, di sicuro L'unica cosa che è finita Vai Ha preso lo scudo! Grande! Anche la... la resistenza al fuoco che c'era là Ottima cosa! Adesso, se mi arriva l'ordine... Ehm... 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 anche... I cosi di pelle Vado a fare un altro ordine subito Aspettate che voglio vedere se quello sta scappando col mal tolto oppure no Allora, non ho più Allora, dammi... Tre di queste, uno scudo Cosa sta facendo quella? Si è buggata Ehm... no, guanti ce li ho ancora Sì, un paio Ehm... queste non ne ho più Ehm... dammi due di fuoco Ok Ho speso... 166 Bestia Però sto finendo tutto... guardate come va via la roba! Oggi... splendido inizia bene sta giornata Fammi arrivare sto ordine Però per cortesia che qua c'ho il negozio svuotato praticamente Ecco E mi sa che dovrò fare un altro ordine adesso perché mi manca altra roba Andiamo un po' con ordine a vedere un po' Ehm... Quella che ho comprato i guanti L'altra li voleva Ehm... resistenza al fuoco Ne mettiamo una qua e una là sotto Ehm... Ehm... Ho bisogno di guanti E un paio di altre pozioni Prendiamo due paio di guanti va E un paio di stivaletti a sto punto No e copriamo una spada Avevamo soldi adesso Spostiamo sta roba Qua Ah no questi lo ci stanno Porca mannaggia Ah perché questo è solo per le pozioni Già Però facciamo una cosa... Allora mettiamo questa Qua E questi Qua Questa Qua Ehm... Questa No facciamo una cosa più simmetrica Così Ehm... Mettiamo i guanti Dopo comprare un altro scudo Vai con uno scudo Vai Ehm... No sto andando da parte svegliata Ehm... Piazziamo i guanti qua E... Ah ho degli altri guanti che mi avanzano Vabbè li metterò qua Ci stanno Ehm... Spada No la spada Non ho impostato il prezzo Ok E lo scudo Ok No Non vi fate scherzi voi No ho comprato entrambe Ma c'è quanta gente Cosa devo dire? Pozione Beh mi hanno fatto sparire le resistenze al fuoco Tutte e due le resistenze al fuoco ho comprato Ehm... Prendi cinque di queste Ehm... Tre resistenze al fuoco a sto punto Non mi ricordo se avevo un ordine da prendere Mi pare di no eh No Un'altra pozione mi ha preso No ha preso la pietra Qualcuno ha preso una pietra No lei ha preso una pozione L'altro Qualcun altro ha preso una pietra Eh no Eh no Con lo scudo poi Scusa un attimo Lo scudo vale cinquanta Non ti lascio mica andare via con lo scudo Mi pare che mi abbia detto Che è arrivato l'ordine no? Te lo paghi lo scudo vero? È la spada Eh Prima spada venduta tra l'altro Ok ho venduto gli stivali quindi Io prendo degli altri stivali Eh... Aspetta Togliamo i guanti Aspettiamo Mettiamo questa qua E questa qua E... Metto un attimo dei guanti là Intanto che non ho Odo prendere una pietra E lo scudo E gli stivali Ma cosa abbiamo comprato? I guanti Resistenza al fuoco E te ne piazzo un'altra Ragazzi grazie Mi hai comprato gli altri guanti Devo Comprare degli altri guanti Ma già oggi sta andando di brutto il negozio Grandi vendite Ma perché ho preso un altro scudo? Devo prendere la spada Scemo che sono Eh vabbè Spero che vada via Eeeh Una resistenza al fuoco Una spada Eeeh Due guanti Ci stiamo No? Nelle spese Sì Devo di corsa Vedere se c'è da pulire qua Ok Eh ho visto È andato subito lo scudo Ho dato l'ordine Quindi andiamo a piazzare qua C'è un altro Oh beh ci stanno anche degli altri oggetti piccoli Cioè ci stanno I due oggetti medi Più gli oggetti piccoli Quindi posso Sì Eh allora Meglio così Facciamo così Così ci stanno più Pozzela Ok Allora Togliamo quelle di Resistenza al fuoco Le metto qua Va? Così mi è un po' più ordinato Il tutto Wey Dove credi di andare? Brigante Ok Non sto più neanche capendo cosa stanno comprando Hanno comprato una pietra Hanno comprato stivali Allora compriamo Due pietre E due stivali E No Cosa viene comprato adesso? Ah un resistenza al fuoco Beh ce n'è ancora una per fortuna Poi dovremmo comprare un'altra resistenza al fuoco Mi sa Guardiamo un attimo adesso come spendere le skill Se riusciamo Ok Adesso possiamo sbloccare la Eeeh Taverna Dove Cosa Cosa Devo fare Forse ci sarà un oggetto da Poter piazzare Non lo so Vedremo una fase di costruzione Forse Ho degli stivali Metto gli stivali qua dietro E' pagato Versi Eeeh Ho bisogno di Prendiamo anche 4 resistenza al fuoco Tanto abbiamo l'intenzione di Eeeh vabbè Dovevo prendere anche una spada E ormai aspetto che arrivi l'ordine Qua al posto dei guanti Metto Questa Pietra per ora Gli stivali Ottimo Ma c'è tantissima gente oggi Fino all'altro ieri Non c'era praticamente nulla Eeeh Adesso Tutti insieme invece Eeeh Vai vai Mmm Allora Pozioni ancora ne ho Un po' Pietre le sono rimaste Qua no Ok Prego questa Devo ordinare Due stivali Due guanti E una spada Eeeh Due guanti E una spada Provo anche a vedere l'armatura Secondo me non possiamo Piazzare l'armatura Però Non si sa mai Eeeh Non mi pare proprio No dovevo prendere No dovevo prendere Anche delle Pozioni qua Vado a vedere se posso piazzare Per caso l'armatura No infatti I guanti Eeeh Eeeh La spada Non posso Vediamo questa qua Qua A quanti le avevo presi Di Eeeh Prendo Quattro Pozioni di vita E uno scudo Aspettiamo Vediamo un attimo Cosa Prendono Resistenza al fuoco Non è grave Perché non ho ancora due Ho sbagliato Ho preso anche I guanti Adesso li rimettiamo A posto No es problema Ok Managgia che marcello C'è per terra Poi ci sono Tipo anche dei robot Che ti aiutano Degli aiutanti Che Che tempismo Guardate che tempismo Ormai Cioè in sto negozio Chi ci ferma più Eeeh Sì avevamo preso Anche lo scudo Ottimo Avevo paura di essermene Dimenticato Ma No E invece No Quanto costa invece La cosa dell'armatura Come Skill Qua Eeeh Ok Non è tanto Prossimo Weee T'ho vista Arrivano i barbari Mi sa Ho sentito urlare Boh Ho sentito urlare Non so cosa Boh Boh Non era più palida idea Di cosa si è successo Eeeh Servirà un paio di stivali Probabilmente Poi vediamo Abbiamo quasi chiuso 24 secondi La giornata è andata abbastanza Sì Quello la bisogno Lo indica in basso a destra Che ha bisogno Dell'armor stand Per essere poggiato Ancora qualcuno Questo signore Questo signore Sean Jackman Adesso sono tutti warrior Ma poi dopo potrò sbloccare Ha rubato qualcosa No E se è bruciato È scaduto il tempo Sì Ma vediamo un attimo Se posso piazzare qualcosa Di nuovo Eeeh Chest Questa non so cosa sia Credo sia per il Qua ci sono forse degli upgrade Per combattere Eeeh Come storage E Ah questa qua è la L'attacco secondario E i martelli Degli upgrade Però Non mi pare che siano Nelle skill Non li ho letti Nelle skill Quindi mi sa che Eeeh Boh Servo anche della birra Ma come la servo la birra Scusate Qua la faccio la birra Qua c'è una griglia Che non so cosa Sono un po' perplesso Ma posso cercare informazioni Poi dentro il prossimo episodio Adesso se vi interromperò Un attimo qua Eeeh E boh Quindi io vi invito Lasciate un mi piace Iscrivetevi se per caso Non è stato già fatto A scrivere un commento Qua sotto In cui mi fate sapere Cosa ne pensate Sinceramente di questa serie Potete anche mandarmi a quel paese Poi magari Non sono molto contento Che lo facciate Però siete liberi Di farlo Ecco Come io sono libero Di bannarmi Buona giornata Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti